Musica Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Anteprima Auditorium. Tutte le anticipazioni di film e spettacoli dal Teatro di Cassano Magnago. Una settimana da supereroi al cinema di Piazza San Giulio, con l'ultimo e divertente capolavoro di animazione della Disney Pixar, Gli Incredibili 2. Mi definisce in quanto uomo. Non stiamo dicendo che voi... che? L'ho sentito dire in tv. Un sequel che a distanza di 14 anni piace ancora di più del primo film e dove la famiglia degli Incredibili è messa a dura prova. Sia da un terribile nemico, sia dalla nuova missione di Mamma Ellen, nome in codice Elastic Girl. Mentre Bob, Miss Incredible, dovrà rimanere a casa ad occuparsi di compiti, crisi adolescenziali e dei sorprendenti e inaspettati poteri di Jack Jack. Tu hai i supermoderi, il mio bambino! Grandi risate dunque e spunti di riflessione per tutta la famiglia. Lunedì sera torna anche il biglietto ridotto a tariffa unica di 5 euro. Prove iniziate ma a porte chiuse per i legnanesi, a Cassano in scena dal 7 all'11 novembre. Per la stagione 2018-2019 ricordo invece la novità dei mini abbonamenti. Un pacchetto di quattro spettacoli riproposti in seconda serata e disponibili per la sottoscrizione dal 20 ottobre all'auditorio. Proseguiamo ora la nostra visita alla scoperta dei segreti del teatro Giovanni XXIII. Dal palcoscenico di oltre 120 metri quadrati siamo scesi ai camerini degli artisti e poi in cima fino alla cosiddetta graticcia, tra le novità importanti dell'ultima ristrutturazione. Il teatro nel 1997 è stato allargato in modo da poter ospitare qualsiasi tipo di spettacolo. In effetti il palco del teatro auditorio non è molto grande e soprattutto ha una graticcia alta 13 metri che serve per far sparire direttamente gli scenari senza dover piegare o avere qualche complicazione. Ogni 10 centimetri ha uno spazio per poter far scendere qualsiasi cosa che serve per l'attrezzatura di una scenografia. Di sicuro è uno dei pochi teatri in zona soprattutto a livello diciamo parrocchiale ad avere una sala di queste dimensioni e la possibilità di avere dei musical di un certo livello. È tutto per questa puntata di Antiprima Auditorio. Arrivederci a giovedì prossimo alle 20.05 sempre su Rete55. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS